Si chiamava Karen Perez, era di Houston negli Stati Uniti d'America ed è stata uccisa brutalmente dal suo fidanzato perché la ragazza non voleva fare sesso con lui. E' questo il motivo che avrebbe spinto per l'appunto un uomo a uccidere la ragazzina di soli 15 anni. Il suo corpo è stato ritrovato completamente nudo, privo di vita, conservato all'interno dell'abitazione del ragazzo dove sarebbe stata assassinata dal suo, ripeto, uomo. Gli inquirenti hanno ammesso che con ogni probabilità Karen temi di essere uccisa sarebbe stata violentata dal fanciullo a incastrare il giovane killer, sarebbe stato un video registrato con il suo smartphone e il filmato si sente chiaramente che lui era stato costringendo ad avere rapporti sessuali contro la sua voglia, contro la sua volontà. Al suo dinievo, al suo rifiuto, il ragazzo ha iniziato a soffocarla mentre lei cercava di urlare, non voglio morire, una telecamera di videosorveglianza tuttavia installata all'interno di un fast food avrebbe ripreso la coppia pochi minuti prima dell'assassinio, del videoassinio. I due si tengono mano nella mano e sembrano non lasciare trasparire alcun tipo di scontro che poi di lì a poco si sarebbe verificato. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e...